SIGLA Voglio dimenticare, chi mai sceglierebbe di restare solo imprigionato in ricordi spezzati? Che viaggio sconcertante! Ma mi sono sbarazzata di Pris, o di ciò che è diventata. Perlomeno il luogo in cui sono approdata è familiare. Finirai alla cogna! In prigione uno scimmione squinternato si prenderà cura di te e morirà in piccato! Creatura mostruosa! Questa malvagità sarà punita! Non è come credi! Sei parte di questo! No! No, Adam, te lo giuro! Il rapimento era reale! Con l'attacco all'industria e Sarif miravano a me! Volevano le mie ricerche! E quando hai deciso di consegnarle? Non è andata come credi! Volevo dirtelo, ma non... Potevo farlo! Non potevo! E poi David ha detto che dovevamo farlo... ...per la razza umana! I am born! Quello è un fondutissimo, Ekadon! Ma che convini? Vai in giro a far incazzare ogni cosa che incontri! Se quella gran troia continua a colpire, l'edificio crollerà! E sarà la fine per entrambi! La specie di taglio schifoso che ha dietro la testa! Scarica gli addosso le munizioni! Sei stato tu a ordinare l'uccisione di Bryce Novak! So quello che c'è da sapere su tuo padre! Non me ne frega proprio niente delle vostre stronzate personali! Se uno di voi ha avuto a che fare con la morte di mio padre... Giuro che me lo porterò volentieri all'inferno con me!